Da sabato prossimo e fino a lunedì 17 novembre in Piazza Dante arriva il Tour della Vista, la campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione visiva che da nord a sud coinvolgerà circa 30 città italiane. In piazza su un tir itinerante, ottici e oculisti effettueranno screening gratuiti della vista ed esami per evidenziare la presenza di eventuali patologie. La tappa napoletana dell'iniziativa è organizzata con la collaborazione di Federottica e del reparto di oftalmologia del secondo policlinico. Gli oculisti e gli ottici optometristi in sinergia lavoreranno per sensibilizzare la popolazione al concetto della prevenzione visiva perché vogliamo sconfiggere un dato molto allarmante che è quello in cui le persone ancora oggi danno poca importanza alla prevenzione visiva. Se si pensa che ad oggi la degenerazione maculare di tipo essudativo è responsabile del 90% delle cecità e delle ipovisioni è importante comprendere come andare a prevenire un tipo di patologia del genere e andare soprattutto a fare una diagnosi precoce per impostare un'adeguata terapia sia fondamentale. Così come per quanto riguarda la retinopatia diabetica che soprattutto in campania è di grande impatto sociale così come anche il glaucoma. Effettuare una tonometria dopo i 40 anni è fondamentale per andare a prevenire e soprattutto a trattare quelle che sono le complicanze legate ad un ipertone oculare.